Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video su Skyrim Oggi vi mostrerò come acquistare tutte le case in modo gratuito In questo caso quella di Wytran, ma funziona ovviamente con tutte le case Abbiamo qui Bon Proventus Avenici, il padre della signora Avenici, quella della Forge Ed è lui, diciamo, il tra virgolette segretario dello Jarl con cui dobbiamo parlare Vi dico subito che per fare questo, per usufruire di questo glitch dovrete avere almeno 5000 monete Ma tranquilli, queste 5000 monete non li andrete a spendere realmente Qui vabbè sto facendo passare il tempo così per spiegarvi Facciamo passare il tempo fino a quando stopirla non si sposterà nei suoi alloggi In questo caso, vedete, sta andando su, sta salendo sopra Per chi appunto ci serve vicino ad una cassa e non so se avete già capito Ok, finalmente si è deciso di avvicinarsi Allora, ora noi dobbiamo, fate un salvataggio così avrete il buon Avenici vicinissimo alla cassa Gli diciamo di acquistare la casa e posiamo i nostri 5000, anzi fosse sbagliato Vediamo, posiamo i nostri 5000 pezzi di oro Che troviamo su varie Li posiamo dentro il cassetto Tutti quanti, infatti Tutti quanti e 5832 li posiamo E infatti ho sbagliato, ho sbagliato Perché dobbiamo passare due interazioni Ok, infatti vedete, ripensandoci Ok, allora riprendiamo di nuovo i nostri 5000 E facciamo così Parliamo Sto cercando, vorrei acquistare una casa 5000 pezzi di oro Ok, la prendo Appena premete la prendo Cerchio Mettete i soldi dentro la cassa Subito Tutti quanti, vedete che ancora li avete Ok E in alto vi ha dato la chiave Chiave di Brissom Come vedete vi ha dato la chiave Ora ricontrolliamo E abbiamo 5832 pezzi di oro Quindi non abbiamo speso un piffero E la chiave ce l'ha data Dovete essere molto rapidi Appena la prendo Dovete premere cerchio Posare i soldi E ritornare Ok ragazzi Questo video su Skyrim finisce qui Sono in arrivo tanti altri video Guardate la playlist su Skyrim Ci sono un sacco di tutorial Ci vediamo alla prossima Ciao